L'italiano secondo il metodo natura, redatto sotto la direzione di Arthur Jensen. Capitolo 50. Capitolo cinquantesimo. Non tutto è bene quel che finisce bene. Lo ripeto, disse Vespucci quando si fu calmato. Sono un idiota. Figuratevi che quella chiamata era di Dorabel, che mi telefonava per confessarmi di non essere riuscita a trovare la mia preziosa valigetta nera. Diceva di averla cercata come una matta per tutto il giorno, ma senza successo. Devo dirvi che, non osando portarmela dietro, quassù in montagna, prima di partire, e senza esitazione, l'avevo affidata a Dorabel. Perciò, quando essa mi ha telefonato per dirmi che la valigetta era scomparsa, è stato come se qualcuno mi avesse dato un pugno sulla testa. Ho visto rosso, o più esattamente non ho visto più nulla, perché è stato come se avessi perso la ragione. Quando sono ritornato in me, ho deciso di agire in modo fulminio, di precipitarmi a Torino e di lanciarmi sulle tracce dei ladri. Ecco il motivo della nostra partenza precipitosa da Cesena e del tono un po' aspro in cui ti ho parlato, povera Joy. Ma credi, ero proprio fuori di me. Va bene, ma... disse Bruno, sempre senza comprendere. Perché mi sono fermato ridendo e mi sono dato dell'imbecille. Eh, perché tutta un tratto mi sono rammentato che, all'ultimo momento, avevo messo la valigetta in fondo al mio sacco da montagna. Quando mi aveva telefonato d'ora, io me ne ero completamente dimenticato. Adesso però, scusatemi tanto, voglio verificare se non mi sbaglio di nuovo. Esco un momento. Pochi istanti dopo, Vespucci tornò, interamente rasserenato. Sì, è sempre nel sacco. Possiamo andare avanti con calma. Uff, meno male, sospirò Joy e si accasciò sul sedile della macchina. Spero che non ci farai più di queste sorprese. No, no, puoi stare sicura, rispose ridendo Vespucci e ripartì. Arrivati a Torino, la prima e unica cosa che fecero fu di prendere un bel bagno caldo, di andare a letto e di dormire dodici ore di fila. La mattina seguente, mentre stavano facendo colazione, Vespucci ricevette due lettere. Una confidenziale, da un genovese che egli aveva già conosciuto a Washington e che, come lui, si interessava di Annibale. L'altra da un amico della famiglia. Il genovese era la sola persona di cui Vespucci avesse la più completa fiducia, e arrivando in Italia, gli aveva scritto confidenzialmente per sapere se poteva mostrargli il suo lavoro su Annibale. Quel signore scriveva ora che l'avrebbe letto col più grande interesse. Le campagne di Annibale in Italia erano una questione che lo aveva sempre appassionato. Perciò avrebbe esaminato l'opera di Vespucci con la massima discrezione. Vespucci poteva stare tranquillo che nessuno all'infuori di lui ne avrebbe avuto conoscenza. La lettera dell'amico dei Vespucci non era altrettanto piacevole, era anzi assai triste. Egli scriveva che il fratello di Dorabel, Ted, già malato, benché non gravemente, prima della loro partenza dall'America, era peggiorato tutta un tratto nel corso delle ultime settimane, e i medici temevano seriamente per la sua salute. «Mi dispiace, caro Annibale», scriveva l'amico, «di guastare le vostre vacanze, ma son sicuro che mi capirai. Preferisco rivolgermi a te piuttosto che scrivere direttamente a Dora. Vedi di prepararla con cautela alla notizia. In ogni modo, visto lo stato di debolezza estrema in cui si trova ora Ted, fareste bene a tornare a Washington al più presto possibile. So che mi rimproverereste sempre di non essere arrivati a tempo, e la fine di Ted non è più, purtroppo, una possibilità, ma una triste probabilità». Reprimendo ogni segno della sua dolorosa sorpresa, Vespucci si slanciò subito in un lungo discorso sul genovese che gli aveva scritto e sull'onore che gli faceva accettando di leggere la sua opera. Parlava di mille argomenti con una tale volubilità che Dorabel non tardò in sospettirsi e gli domandò a bruciapelo «Che cosa stai cercando di nascondermi? Di chi era l'altra lettera che ti ha dato il portiere?» «L'altra lettera», domandò Vespucci, allo scopo di guadagnar tempo, fingendo di non poter cambiare argomento così a un tratto. «Ah, già, l'altra lettera! Già, già! Sì, hai ragione tu, il portiere mi ha dato anche un'altra lettera». «Non farlo stupido, Annibale!» gli disse la moglie in tono reciso. «Voglio sapere di chi è quella lettera e qual è la notizia che provi a nascondermi!» «Ma cara Dora», rispose il povero Vespucci, cercando le parole adatte alla situazione. «Non tento di nasconderti nulla, ti assicuro. Questa lettera è di Fred, che dà notizie di tuo fratello, Ted. Ecco tutto». «Annibale!» esclamò Dorabel afferrandolo per il braccio. «Tu mi nascondi qualcosa? È accaduta una disgrazia? Ted?» «No, no, calmati. Ted non è... voglio dire... insomma...» Il brav'uomo sudava freddo. In fondo, la lettera era stata scritta più di una settimana prima e nel frattempo poteva benissimo essere accaduta una disgrazia. finalmente, davanti all'insistenza di Dorabel, tirò fuori la lettera di Fred e gliela forse. «Ecco qui, leggi tu stessa. Tanto non serve a nulla cercare di dirti le cose in modo discreto». E seccato di aver ceduto come sempre alla moglie, andò a piantarsi davanti alla finestra, facendo finta di interessarsi a qualcosa nella strada. In realtà, aspettava nervosamente la reazione della moglie. L'attesa non fu lunga. Dora si mise a singhiozzare. Essa voleva molto bene al fratello. Joy l'abbracciò commossa, provando con carezze e buone parole a placare i suoi singhiozzi. Più che le carezze della figlia, fu però la passività del marito che fece cessare il pianto di Dorabel. Svincolandosi dal tenero abbraccio di Joy, essa si voltò verso Annibale e gli disse, piena di indignazione, «Ma fa dunque qualche cosa! Hai perso la parola? Scrivi, telegrafa, telefona, fa quello che vuoi, ma non star lì a guardarmi come... come un... come uno stupido, ecco! Insomma, bisogna che torniamo, o almeno che io torni in America immediatamente! Capisci? I-me-di-a-ta-mente!» «Sì, sì, Dora, certo, ti capisco benissimo. Torniamo tutti insieme, naturalmente, soltanto...» «Che cosa? C'è forse qualcosa di più importante della vita e della morte di mio fratello? Già, tu non hai mai visto di buon occhio la mia famiglia?» «No, non si tratta di cose più o meno importanti», disse Vespucci un po' seccato. Pensavo soltanto che forse... ma Dorabel non lo lasciò finire. Con una foga di cui non la si sarebbe creduta capace, afferrò il telefono, chiamò il portiere e gli domandò in italiano, senza esitare una sola volta e senza nemmeno una parola d'inglese, qual era il modo più rapido per raggiungere Nuova York. Qualche istante più tardi, il portiere la chiamava per farle sapere che il modo più pratico era il rapido fino a Milano, e da lì l'aereo per Nuova York. «Va bene, ci procuri subito quattro posti sul primo rapido per Milano e tre posti nel primo aereo in partenza per Nuova York», gli disse Dorabel. Poi, rivolgendosi al marito, «Sfido che non ci avresti pensato tu. Tocca sempre a me agire nei momenti critici», esclamò, «e adesso non perdiamo tempo, facciamo subito le valigie per essere pronti». «Va bene», disse Vespucci, e si dispose ad andarsene in camera per eseguire l'ordine della moglie. Ma non aveva ancora girato la maniglia della porta che il telefono squillava di nuovo. Era il portiere, il quale annunciava che tutti i posti negli aerei di quel giorno e dell'indomani erano già prenotati. Se voleva, si poteva prenotare tre posti sull'aereo di giovedì sera via Madrid. «È sicuro di aver fatto tutto il possibile per trovare dei posti sugli aerei che partano stasera o domani?» domandò Dorabel al portiere. «Sì, signora», rispose costui, «ho provato tutti i modi, ma non c'era nulla da fare. Un posto per una persona sola si potrebbe sempre avere se qualcuno disdice la prenotazione all'ultimo momento, ma tre posti sul medesimo aereo è praticamente impossibile». «Va bene, se non c'è altro da fare, ci prenoti tre posti per dopo domani». «Farò il necessario. E quando desiderano lasciare Torino e i signori?» «Al più presto possibile». «Beh, se loro partono giovedì sera, basta che prendano un treno nella giornata di dopo domani. Penserò io a fissare loro quattro posti sul rapido delle 14 che arriva a Milano alle 15 e 40. Per fortuna l'aereostazione è proprio all'uscita della stazione ferroviaria». «Bene, faccia come vuole, purché partiamo per l'America quanto prima possibile!» Quando sentì che Dorabel aveva deciso di partire al più presto possibile, Vespucci dapprima esitò qualche istante sulla soglia della camera. Poi si decise e disse «Faccio un salto in città, torno tra poco», e uscì in fretta e furia, come se avesse avuto il diavolo alle calcagna. Quando tornò, non si poté cavargli una parola sulla ragione di quella sua fretta così improvvisa. Andò in giro per tutto il resto della giornata con un sorrisetto ambiguo, che in qualsiasi altra occasione avrebbe reso Dorabel furibonda. Lo stesso Vespucci, bisogna confessarlo, era un po' stupito e della propria condotta e, più ancora, della inattesa passività della moglie. Ma fatto sta che Dorabel era molto legata al fratello e la notizia della fine che lo minacciava era stata per lei un colpo terribile. Non aveva altri fratelli e la morte tragica e prematura dei genitori in un incidente automobilistico li aveva lasciati soli al mondo, loro due con una zia già anziana per unica parente. Perciò il fratello era diventato per Dora una specie di padre, così come lei aveva sempre avuto per il suo caro Ted quasi l'affetto di una vera mamma. Fu solo il giorno della partenza, al momento in cui scesero nel vestibolo per recarsi alla stazione, che i tre ebbero la spiegazione della bizzarra condotta tenuta da Vespucci. Appena Vespucci entrò nel vestibolo, un signore alto, grasso, piuttosto anziano, ma con folti capelli nerissimi, con un paio d'occhi che sembravan gettare fulmini, e con una voce stentoria si alzò di colpo e gli si slanciò contro con un'agilità che non si sarebbe sospettata. «Caro amico!» esclamò il bizzarro personaggio, facendo vibrare i vetri delle finestre del vestibolo e destando echi insospettati. «Carissimo amico, mi permetta di abbracciarla!» E sotto lo sguardo attonito degli altri tre e del personale dell'albergo, afferrò Vespucci per le spalle, se lo tirò sul petto e gli diede un forte abbraccio. «Caro signore!» disse il personaggio quando Vespucci si fu liberato dal suo abbraccio. «Caro signore, io sono Leone Rinaldini di Genova, ho conosciuto suo marito alcuni anni fa a Washington, signora, e da allora sono stato sempre in relazione con lui, perché anch'io, modestamente, mi occupo di Annibale il Cartaginese. Suo marito, signora, mi ha fatto l'onore di chiamarmi a Torino e di affidarmi il suo manoscritto. Appena è uscito da me l'altro ieri, io mi sono immerso nella lettura di quel meraviglioso testo e non mi sono nemmeno accorto delle ore che passavano. Ci ho passato tutta la giornata e la notte, e anche tutta la giornata di ieri, studiandolo fino a tardi, ed ora eccomi qui. Sapendo che loro partivano stamani, dovevo dire a suo marito, dovevo dire anche a lei, signora, che questo è il più grande giorno della mia vita, il giorno in cui mi è stato dato di scoprire un genio di primissimo ordine. Congratulazioni, signora, e anche con lei, signorina, mi congratulo. Lei può essere fiera di suo padre. E Leone Rinaldini continuava a discorrere con volubilità, scuotendo i folti capelli neri, buttandosi avanti e indietro, di qua, di là, con una leggerezza che sembrava sfidare le leggi della natura. Seguì Vespucci e Bruno fuori dall'albergo, sempre parlando con entusiasmo del manoscritto. Li seguì nel tassì, li seguì alla stazione fino al treno, e si fermò solamente per esclamare con voce stentoria, «Diavolo! Vengo a Milano con loro! Faccio un salto a comprare il biglietto e torno subito!» e sparì in un baleno. «Chi è questo personaggio così discreto?» domandò Dorabel con un tono pieno di ironia mentre salivano sul treno. «E' discreto? Cosa vuoi dire?» domandò Vespucci con una certa esitazione. «Voglio dire che non ho mai visto nessuno fare mostra di una così ammirabile discrezione. Se è tanto colto quanto è grosso, mi congratulo anch'io con te. Con un tale protettore farai strada, ne sono certa!» Si era intanto sentito il fischio del capo stazione, e il treno si era messo in moto lungo il marciapiede. «Il signor Rinaldini!» esclamò Vespucci. «Bisogna fermare il treno! Il mio manoscritto! La mia opera!» e si accasciò sul sedile con un singhiozzo in gola. Ma la sua subita paura era stata prematura. Egli non sapeva di cosa fosse capace l'agilità di Rinaldini. Questi aveva raggiunto di corsa l'ultima vettura del rapido prima che lasciasse la stazione. Con un gesto fulminio aveva aperto lo sportello ed era saltato sul treno. «Eccomi!» esclamò il singolare personaggio spalancando la porta dello scompartimento occupato dai Vespucci e da Bruno. «Ancora un po' e quasi non ce la facevo! Meno male che da giovane sono stato campione d'Italia nel salto in alto e nei quattrocento ostacoli, e ancora oggi faccio un po' di tennis tutte le mattine per non perdere l'agilità!» e Rinaldini riprese il filo del suo discorso senza accorgersi dei sorrisetti ironici di Dorabel. Annibale, intanto, ebro di felicità, ascoltava muto e pieno di ammirazione. Ben presto però, Dorabel, cullata dal flusso delle parole di Rinaldini, appoggiò la testa contro lo schienale del sedile e si appisolò. Bruno non volle lasciarsi sfuggire quest'ultima occasione di parlare da solo a solo con Joy e si alzò facendole segno di seguirlo nel corridoio. Erano ormai nel corridoio da più di un quarto d'ora quando Dorabel si svegliò di soprassalto. Non vedendo più né la figlia né Bruno, uscì dallo scompartimento per cercarli. Quando vide la fanciulla sorridente a fianco di Bruno, capì che il giovanotto oramai le aveva fatto la sua brava dichiarazione col risultato che si aspettava. Dorabel esitò un istante e poi si avvicinò ai due giovani dicendo loro in modo leggermente ironico. Vedo che non avete perso tempo mentre dormivo. Dato che protestare non servirebbe a nulla, parliamo un po' seriamente. Lei, Bruno, vuol bene a mia figlia? E tu, Joy, vuoi bene a Bruno? Benissimo. E poi? Come poi? Domandò Joy confusa. Che cosa vuoi dire? Lo sai benissimo e la mia domanda era piuttosto per Bruno che per te. Suppongo, caro Bruno, che lei abbia detto a mia figlia che vuole sposarla. Sì, naturalmente, rispose il giovane un po' confuso anche lui perché non si aspettava una tale domanda a bruciapelo. Dunque lei vuole sposare mia figlia. Congratulazioni. E adesso, continuò Dorabel in modo molto serio, vorrei sapere di che cosa vivranno lei e mia figlia. Lei, se non sbaglio, per ora non fa nulla e non mi pare nemmeno che stia per mettersi a fare qualche cosa. Già, ecco, vede, cominciò il giovanotto. È vero che io ancora non faccio nulla, però non tutti hanno già un lavoro a vent'anni. Ma ci sono due cose che lei non sa. La prima è che Joy ed io ci siamo soltanto promessi di sposarci, cioè ci sposeremo appunto quando io avrò un lavoro che ci permetta di vivere tutti e due. Fino ad allora saremo solo due fidanzati come ce ne sono dappertutto. La seconda cosa, che lei non sa, è che io sono studente e che sto appunto studiando legge all'Università di Roma. Appena avrò terminato gli studi, cioè fra quattro anni, con le relazioni che ha mio padre nel mondo degli affari, spero di trovare un buon posto. Se dunque Joy vuole aspettare quattro o cinque anni. Aspetterò quanto sarà necessario, sai mamma, esclamò la fanciulla e il giovane le sorrise felice. Beh, in tal caso, concluse Dorabel, per il momento io non ho più nulla da dire. Lei sa bene di non essermi affatto antipatico e mio marito... Beh, mi congratulo di nuovo, questa volta senza ironia, permette che l'abbracci? Fu Bruno invece che abbracciò la sua futura suocera. Arrivati a Milano, si avviarono all'aerostazione, che era proprio all'uscita della stazione centrale. Volevano andare subito all'aeroporto, dove c'era un albergo diurno in cui avrebbero potuto lavarsi e riposarsi, e dove c'era un ristorante in cui potevano cenare prima di salire sull'aereo. Dorabel sperava che ora, finalmente, Rinaldini li avrebbe lasciati in pace. Ma che? Rinaldini, con gran gioia di Vespucci, decise di accompagnarli fino all'aeroporto. Dorabel era ormai troppo stanca per protestare e capì che comunque sarebbe stato inutile. All'aeroporto, mentre Joy e Dorabel andavano all'albergo diurno, Vespucci e Rinaldini continuarono la loro conversazione. Non la interruppero nemmeno durante la cena né dopo cena, fino al momento della partenza. Vespucci, ebbero dei complimenti che l'altro non si stancava di versargli insieme col vino, non si controllava più. Parlava e parlava senza sosta. Tanto che Bruno pensò, scommetto che questo qui fra poco crede di essere lui, Annibale il cartaginese. Mancava un quarto d'ora alla partenza, e già molti viaggiatori si preparavano ad uscire, perché l'altoparlante li avrebbe chiamati fra un momento. Rinaldini si battè la mano sulla fronte ed esclamò. Ma guardi un po' che distrazione la mia! Stavo per dimenticarmi la cosa più importante per lei! Mentre leggevo la sua geniale opera, caro Vespucci, io mi sono detto che bisognava pubblicare subito almeno i risultati principali delle sue ricerche, non solo per preparare il pubblico al grande avvenimento della pubblicazione completa della sua opera, ma anche per evitare che altri, non si sa mai, pubblichi come cosa propria qualcuna delle sue scoperte. Le confesso che per non perdere tempo io ho preparato una trentina di pagine che raccolgono il meglio delle sue ricerche e che si potrebbero pubblicare presto, anche subito, se lei è d'accordo. Vespucci non era capace di parlare per l'emozione, riuscì solo a dire di sì con un cenno del capo e Rinaldini proseguì dopo un attimo di esitazione. C'è solo un problema, vede, anche se fortunatamente è solo un problema economico. Pensavo dunque che se lei poteva, non dico regalarmi per carità, ma solo prestarmi, sia ben chiaro, prestarmi mille dollari o 650.000 lire, se le fa più comodo, io avrei potuto far pubblicare subito queste pagine e poi, ben inteso, le avrei reso immediatamente tutta la somma. E Rinaldini fissò su Vespucci il suo sguardo di fuoco. Annibale tirò Rinaldini in disparte, mentre Bruno abbracciava Dorabel e Joy, tirò fuori in silenzio il libretto degli assegni, ne riempì uno, lo staccò e lo diede commosso a Rinaldini senza dire una parola. Rinaldini lo prese senza guardarlo, se lo mise in tasca con un gesto da gran signore e abbracciò commosso Annibale. Poi strinse la mano a Joy facendole tanti auguri, baciò la mano a Dorabel e restò in silenzio a fianco di Bruno, il quale guardava commosso i Vespucci che si incamminavano verso l'aereo. Pochi minuti dopo, questo si staccava da terra e si alzava verso il cielo. Bruno sentì nel cuore un dolore sconosciuto. Chissà quando avrebbe riveduto Joy, sarebbe forse trascorso qualche anno e allora era assolutamente sicuro di sé e anche dei sentimenti di Joy, ma nel suo animo c'era l'ombra di un dubbio. Assorto in questi tristi pensieri, Bruno aveva interamente dimenticato la presenza di Rinaldini, che era rimasto accanto a lui. Fu come risvegliato da un sogno quando sentì alle sue spalle una voce sconosciuta che diceva «Leone Rinaldini, questa volta vieni con noi e senza fare storie». Bruno, attonito, si voltò e vide due signori vestiti di scuro che si accingevano a portar via un Rinaldini pallido e a capo chino, il quale sembrava aver perduto interamente la parola. «Ma loro scusino, che cosa vogliono?» esclamò il giovanotto facendo un passo verso il gruppo. «Vorremmo allontanarci dall'aeroporto senza destare attenzione», disse uno dei due poliziotti e spiegò, accennando a Rinaldini, «è più di un mese che gli corriamo dietro attraverso mezza Italia, cercando di prenderlo. Stasera questo qui dorme in prigione». «Un momento!» esclamò Bruno. «Allora, se loro sono della polizia, guardino un po' che questo signore si è anche fatto dare un assegno di 650.000 lire dal mio futuro suocero. Lo deve avere ancora in tasca!» «Ma guarda un po', disse il poliziotto, e mettendo la mano nella tasca di Rinaldini, ne tirò fuori proprio l'assegno di Annibale Vespucci. Vi diede uno sguardo, rise, e poi disse, «Scusi, sa, ma io un nome simile non l'avevo mai sentito». Il giovanotto guardò l'assegno anche lui, poi guardò Rinaldini e scoppiò in una risata. «Tanta fatica per un pezzo di carta!» Infatti, l'assegno era firmato Annibale il cartaginese.